salve a tutti benvenuti in questo mio nuovo tutorial oggi andremo a vedere come creare l'identificazione digitale speed valevole per praticamente fare qualsiasi cosa a livello burocratico per il reddito di cittadinanza famoso che verrà attivato da marzo cioè le domande si faranno dai primi di marzo praticamente sarà necessario fare domanda con questo tipo di certificazione allora intanto andiamo sul sito delle agenzie per l'italia digitale vi metterò naturalmente il link e praticamente vi spiego che cos'è questo questo speed per richiedere ottenere la credenziale speed il sistema pubblico di identità digitale deve essere un maggiore n vabbè normale allora se sei e risiedi in italia serve un indirizzo di posta elettronica il numero di telefono del cellulare che usi normalmente un documento di identità valido carta di identità passaporto patente permesso di soggiorno se sei straniero il permesso di soggiorno deve essere praticamente valido e poi praticamente tramite questa registrazione deve essere deve può essere necessario fotografarli e allegarli in formato in form che compile di compilazione però andremo a vedere tutto quanto insieme a come si fa allora se invece sei un residente all'estero naturalmente esso si intende comunità europea se sei invece residente fuori dalla comunità europea devi essere scritto all'aire cioè per i residenti all'estero anche naturalmente anche se si risiede in europa buona prassi dopo sei mesi che sei che vivi stabilmente in un membro in un altro paese ti dovessi registrare come all'anagrifei aeree ok non andranno non andiamo a toccare questa pratica dell'aeree ma andiamo a vedere cosa devi fare cosa devi fare per ottenere lo speed scegli uno degli ottimi identity provider e registi sul loro sito la registrazione consiste in tre step il primo step inserisci i dati crea la tua credenziale speed effettua il riconoscimento allora i tempi di rilascio dell'identità digitale devendo dai singoli identi identi provider c'è una premessa da fare esistono vari tipi di speed sono c'è lo speed gratuito e lo speed a pagamento perché questo comporta che lo speed gratuito ti dà accesso soltanto alle pratiche burocaliche che tu devi fare entrare dentro il sito dell'inps fare domande di certificazione dei documenti il futuro reddito di cittadinanza quelli a pagamento ci hanno altre identificazioni molto più restrittive e ti permette di fare altre cose allora gli identity provider sono dei provider che certificano le tue credenziali allora vediamo quali ci scegliamo di dati di riconoscimento che risulta più comoda di persona tramite carta di identità elettronica cioè la carta la scie il documento di identità elettronico oppure la testa sanitaria oppure oppure una firma digitale o tramite welcome poi devi scegliere il livello di sicurezza di speed che ti serve e se sei cliente già di un provider che adesso andremo a vedere potresti avere un flusso di registrazione semplificato allora vediamo cosa vuol dire vuol dire che se sei un cliente di questi provider l'autenticazione si si praticamente si alleggerisce i provider sono Aruba infocert intesa e tutti questi altri qua che vediamo vedi team speed italia eccetera eccetera allora qua vediamo i livelli di sicurezza allora qua vediamo i livelli di sicurezza alla Aruba c'ha tre livelli di sicurezza naturalmente il terzo livello è a pagamento infocert c'ha due livelli di praticamente di accesso naturalmente e naturalmente scusate ok naturalmente questi provider sono tutti a pagamento ok poi di bene in base alla certificazione poi vai a pagare una certa quota ok riconoscimento di persona vedi poi vi do il sito e mentre vi andate a vedere tranquillamente e normalmente allora vediamo un po andiamo a vedere quello gratuito ok andiamo a vedere il team è gratuito questo post è praticamente gratis all'ufficio postale e a domicilio a pagamento andiamo a vedere riconoscimento CE e CNS CE la carta di identità elettronica e CNS la carta sanitaria elettronica qua ci sono le varie cose e poi adesso noi andremo a vedere per le poste allora poste allora se vai di persona è gratuito e puoi prendere appuntamento verso qualsiasi ufficio postale e completare la procedura di registrazione davanti ad un operatore dopo esserti autenticato sul sito delle poste italiane ok poi a pagamento tramite servizio domicilio online puoi registrare direttamente sul sito poste id poste.it e richiedere online lo spirito attraverso un cellulare certificato presso post italiano e un lettore banco posta i tempi medi sono rilascio online 5 minuti poi vedi tramite testa sanitaria o carta di identità o firma digitale vedi se hai questi qua puoi completare la registrazione totalmente online tramite un lettore di smart card da collegare al tuo computer ok allora intanto noi ti consiglio di andare praticamente a chiamare questo numero per avere ulteriori informazioni quindi noi intanto andiamo a registrare composte qui qua ci sono varie cose facciamo registrare subito poi vedi riconoscimento di persona ci vogliono circa 15 minuti sms sul cellulare certificato 3 minuti circa lettore banco posta perciò dovete avere il lettore banco posta essere cliente banco posta carta nazionale dei servizi di carta di identità elettronica sia la CE che la CNS praticamente ci vogliono 5 minuti dobbiamo scegliere quale tipologia di cosa allora facciamo 5 minuti online 10 minuti per l'identificazione ok noi andremo a usare team clicchiamo qua facciamo registrati con team venite con team aspettate eh facciamo così con team allora scusate che ho più browse aperti è un macello allora abbiamo detto che scegliamo team diciamo registrati con team diciamo che siamo un cittadino abbiamo varie possibilità eh procedere con la testa sanitaria o la o la o la carta di identità elettronica di persona ci sono tutte le cose che servono firma qualificata webcam noi andremo a a impostare questa opzione webcam qua dice che è gratuito ok andiamo a fare test webcam vedere se è tutto compatibile qua questi sono i browser compatibili noi facciamo avvia test i verifichi del tuo sistema in corso dobbiamo fare il classico recapture allora veicoli biciclette consenti dice che è tutto compatibile ok per il cambio microfono browser sistema operativo linea dati ok facciamo esci facciamo adesso andiamo a cliccare su continua e praticamente qui inizia la procedura vera e propria aspettiamo che carica la pagina vedi richiesta team id cittadino informativa contrattuale per proseguire la richiesta con team ti informiamo che se non sei già utente team digital store i seguenti dati saranno utilizzati anche per la creazione dell'utenza team digital store al cui dovrai accettare i termini di utilizzo informativa come di seguito indicato ok voi vi leggete tutto quanto e poi spuntate andiamo a vedere le condizioni di andiamo a vedere le condizioni di utilizzo allora allora vedi il documento descrive la decimina dei termini qua ovviamente ci sono tutte le varie cose che vi dovete leggere su quanto riguarda questo qua dopo di che andate a spuntare quindi per poter proseguire è necessario accettare le informative ok consenso di trattamento dei dati da parte di telecom ok poi informazione di utenza speed scegli la tua user di almeno di 4 caratteri tra i numeri o lettere che potrai utilizzare per accedere al servizio online abilitati a speed ed inserisci le tue informazioni di contatto ok io adesso questo qui compilo questi dati ci vediamo più tardi ok messo i dati qua dobbiamo generare il codice di verifica e poi inserire ulteriori dati attenzione questa cosa è molto importante perché qua dice quando tu generi il codice di verifica ti verrà inviato per le poste elettroniche infatti qua devi mettere la posta elettronica e che dovrai inserire nell'apposito spazio di verifica e mail successivamente riceverai anche un codice per un sms che dovrai inserire nell'apposito spazio di verifica il numero di cellulare ok adesso generiamo il codice e poi ci vediamo dopo ok adesso abbiamo verificato la posta elettronica e dobbiamo praticamente inserire il codice che vi viene mandato anche tramite sms per certificare il numero di proprio che avete dato di cellulare ok fatto questo praticamente dobbiamo inserire dopo aver verificato la posta elettronica e il cellulare inseriamo gli ulteriori dati ok ci vediamo dopo ok abbiamo dato tutti i dati adesso praticamente abbiamo tutto quanto quello che ci serve e vediamo cosa come procedere ok abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare qua ci dice ciao marco hai completato la procedura di attivazione della tua tmd a breve riceverai per email la tua credenziale speed e i dettagli per completare l'identificazione andiamo giù totale 0 vabbè perché è gratuito ok va bene questo è il primo step poi adesso andremo a vedere l'altro step praticamente per continuare l'autodenticazione e allora questo video lo taglio qui in modo che praticamente non diventa troppo lungo e poi praticamente facciamo un altro video dove ti faccio vedere come si procede poi con gli altri con gli altri step ok con questo è tutto ci vediamo più tardi ciao ciao